Gettili telespettatori ben ritrovati con l'appuntamento dedicato all'economia, l'appuntamento di Cilento Channel con il direttore generale della BCC di Aquara Antonio Marino, ben trovato direttore. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora partiamo subito dalle attività della BCC di Aquara, le ultime attività svolte e i programmi per questo mese di dicembre, aggiornaci subito direttore. I programmi di particolare c'è poco, nel senso che il nostro programma principale è trascorrere delle feste felici e contenti, insomma che già sarebbe tanto visto che il virus è tornato a presentarsi. È tornato protagonista direttore. È tornato quasi protagonista, però diciamo che l'obiettivo migliore per noi sarebbe quello di trascorrere delle feste eh insomma bene eh in famiglia tutti con tutte le gioie che ci appartengono insomma e questa sarebbe la prima cosa. Poi per la banca è chiaro che è tempo di di consumdivo, siamo a fine anno e quindi stiamo insomma tirando le somme. Ecco c'è l'ultimo mese dell'anno è sempre un po' più effervescente per tanti motivi, però devo dire che quest'anno la la i depositi diciamo la cosiddetta raccolta è andata benissimo è cresciuta intorno al quindici per cento che è tantissimo eh mentre gli impieghi cioè i prestiti sono cresciuti intorno al sei per cento perché erano di meno fino a qualche tempo fa c'è stata una forte ripresa nel fine anno siamo intorno al sei per cento sei per cento e anche qui devo dire che è una buona performance perché effettivamente la gente tende a essere formica più che ci cala, mette da parte i soldi in previsione di tempi migliori insomma. Eh pure perché direttore lo dobbiamo dire lo Stato con le tasse non permette poi una certa fluidità di denaro eh prima nel dietro le quinte mi raccontavi purtroppo di un cliente tuo che ha in affitto insomma una serie di locali poi alla fine tra tasse e tante insomma eh tanti obblighi eh porta poco a casa così come tante aziende quindi si ci si limita a fare eh il meno possibile eh come possiamo superare questo handicap direttore? Eh problema è che il bilancio si fa in due modi o aumentando lì le entrate o riducendo le spese. Noi in Italia purtroppo non siamo capaci di ridurre le spese anzi aumentano e quindi eh di conseguenza bisogna aumentare le entrate per poter pareggiare insomma no? Eh questo mio cliente della è venuto proprio ieri mi raccontava che lui ha affittato un capannone ad un'azienda per 48.000 euro all'anno 4.000 euro al mese 4 per 12 48 no? Eh e quindi però ci paga 12.000 euro di IMU su questo capannone cioè uno che possiede un capannone cioè voglio dire pagare eh 12.000 euro di IMU di tasse comunali diciamo è già una cosa eh inconcepibile poi sui 48.000 euro ci paga le tasse chiaramente no? Ed è anche un importo consistente poi il capannone bene o male ogni tanto almeno uno o due volte all'anno c'è bisogno di una manutenzione eh succede sempre qualcosa il vento rompe qualcosa insomma no? E quindi almeno altri 5-6.000 euro all'anno di manutenzione ci sono alla fine come dicevi tu giustamente porta a casa 6-9 20.000 euro su 48 e quindi è una cosa che non è concepibile insomma d'altronde poi mettiamoci nei panni di chi paga questo fitto dovendo pagareci 40-50.000 euro all'anno prima o poi diventa anti economico insomma prima o poi eh oggi un capannone costa 4-500.000 euro per cui eh se lo compra o si fa un mutuo e se lo fa da solo da sì insomma no? Quindi in effetti non c'è convenienza ecco perché tutto il sistema economico viaggia verso eh come devo dire lo sconsigliare alle imprese a fare impresa che è un dramma perché le imprese sono quelle che oggi pagano le tasse noi fanno e con la crescita economica fanno fanno crescere il paese quindi se noi continuiamo a tassare le imprese con tanti controlli ogni giorno tante tasse tante cose oggi io vedo tanti piccoli imprenditori che eh si sono ritirati nel senso di eh ridurre l'attività e dice voglio fare il minimo indispensabile eh campo e vado avanti insomma ecco ma non non c'è io non la vedo in giro questa grande voglia di intraprendere insomma a livello diffuso anche tra i giovani oggi che sono poi il motore della società tra i giovani non c'è questa voglia di intraprendere cioè il primo pensiero di un giovane non è quello di fare impresa oggi è quello di di trovarsi un posto di fare eh di stare tranquillo dove un altro pensa che c'è da fare lui lo fa insomma ecco e questo è triste che quando una una società la parte giovane della società non ha voglia di di intraprendere eh si ferma tutta la società assolutamente i giovani oggi direttore consentimi sono annichiliti li vedo proprio spenti perché non hanno ben chiaro il futuro per colpa di una società la nostra insomma che non gli ha eh creato delle basi necessarie per poter andare avanti e per per poter guardare bene appunto il loro futuro eh non solo di lavoro ma anche familiare infatti c'è sempre più difficoltà anche di mettere su famiglia abbiamo pochissimi nati ho visto un report l'altro giorno che insomma vede le nascite in in Italia in calo davvero è difficile uscirne direttore eh ma sì perché poi l'input che viene dal dal governo centrale è un input che va verso cioè la cifra principale dell'azione di governo è il populismo non è certo eh incentivare la 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 voglia di impresa insomma no è il populismo bonus a destra bonus a sinistra tutte cose che invogliano a a stare alle dipendenze dello Stato non a a crescere insomma e quindi è chiaro che c'è tra l'altro non bisogna di vendicare che l'Italia è la prima nazione penso al mondo per per l'entità del debito pubblico quindi sono tutte situazioni che prima o poi verranno al pente qualcuno lo dice in televisione ma sai oggi vedo sulla televisione nazionale che quando qualcuno nei vari talk show eh accenna a mettere in campo un po' di numeri subito lo fanno tacere insomma non mi pare che ci sono dei talk show di approfondimento sulla situazione delle imprese sulla situazione del debito pubblico sulla situazione dell'Italia insomma è vero in Italia si cerca sempre di accantonare i problemi oggi si parla solo di di pandemia di virus eccetera non c'è un un talk show che parla di cose però adesso nel finale parliamo di cose belle che la BCC di Aguara organizza ovvero delle domeniche della salute almeno questo direttore insomma ce lo concediamo a fine puntata eh di oggi che cosa sono e quali sono i vantaggi per i cittadini che ne ne usufruiscono le domeniche della salute le facevamo prima della pandemia poi le dovemmo sospendere e adesso abbiamo ripreso eh ogni domenica invitiamo uno specialista ad Aguara questo è un qualcosa che riguarda Aguara e invitiamo uno specialista a fare delle visite gratuite ne abbiamo già fatte tre eh domenica scorsa è venuto il dottor Cavaliere urologo della della Cobellis di Vallo eppure abbiamo fatto un sacco di visite quindi vengono a fare queste visite gratuite eh perché perché noi eh nelle zone interne abbiamo bisogno di certezze sanitarie perché la popolazione la maggioranza della popolazione è adulta e anziana quindi tu a un anziano la prima cosa che gli devi dire devi dare un po' di certezze sanitarie altrimenti uno insomma se ne scappa no e quindi con questa logica eh facciamo queste domeniche della salute e adesso continuiamo ci fermiamo un attimo a Natale ma già il 9 gennaio abbiamo già un'altra domenica e poi tutto andiamo avanti speditamente ogni domenica verrà uno specialista tra l'altro devo dire che ogni volta che chiamiamo qualcuno eh è felice di di partecipare di intervenire perché se ne parla di queste iniziative se ne parla bene poi anche tra loro i medici eh fanno un bassa parola quindi no siamo proprio soddisfatti di questa iniziativa anche perché la gente del paese la apprezza tantissimo perché poi non si paga quindi eh e nello stesso tempo non c'è bisogno di spostarsi per andare a Salerno o a Napoli a fare delle visite specialistiche. Beh io direi che sono delle iniziative che tutti dovrebbero fare nei propri comuni. Direttore io ti ringrazio con questa bella notizia e ci vediamo la settimana prossima per poter fare insieme magari gli auguri di Natale non solo ai clienti della BCC di Aguara ma anche ai telespettatori di Cilento Channel. Certo ci mancherebbe altro. È il minimo sindacale. Buona giornata direttore. Alla settimana presto. Ciao 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 ciao.